Siamo arrivati all'ultima puntata del nostro percorso per imparare a conoscere meglio i cavalli, come vivono, come pensano, come si muovono, per capire proprio il loro essere cavalli e quindi riuscire poi a interagire meglio con loro. E quindi siamo arrivati alla puntata in cui entra l'uomo a far parte della vita del cavallo. Eccolo qua. In realtà in questo momento è lui che entra a far parte. Cavalli che sono animali curiosi, no? Sì, decisamente. Quando gli viene data l'opportunità cercano appunto di interagire con l'ambiente. E chiaramente noi, persone, esseri viventi, esseri umani, facciamo parte dell'ambiente che sta intorno al cavallo. Per cui siamo elementi di rilievo appunto del suo ambiente. Come ci percepisce? Come un distributore automatico di caramelle, di cibo oppure? No, non solo, non solo, assolutamente. Va sfatato anche questo mito, cioè i cavalli non si relazionano con le persone in funzione di quanto cibo gli portano, assolutamente. Ci percepisce come un essere vivente, diverso da lui, per cui sfatiamo un pochino anche il mito che il cavallo ci percepisce come un altro cavallo perché bisogna fare branco con lui, non è proprio possibile, proprio fisicamente, sensorialmente, con un altro essere vivente con cui eventualmente instaurare una relazione. Però chiaramente questa relazione è subordinata a che tipo di interazione c'è fra questi due soggetti. Per il cavallo esiste un mondo interessante, un mondo non interessante. Quindi non so, questo cavallo è venuto qua, ha detto vediamo se sono interessanti, probabilmente è più interessante il fieno che ha nel box di noi. In questo momento probabilmente sì, perché ha cercato un'interazione, ha cercato di capire se ci poteva essere una sorta di relazione, ci hanno usato, ha cercato una modalità di interazione con noi, poi probabilmente ha deciso che non ne valeva la pena, insomma. Non eravamo un po' umiliante. Un po' umiliante. Un po' interessante. Beh, bisogna accertarla in certe situazioni. Quando è che diventiamo interessanti per il cavallo e quindi decide di condividere un percorso con noi? Innanzitutto diventiamo interessanti quando non gli creiamo dei problemi, quando le nostre azioni non gli provocano dolore, non gli provocano fastidio. Questa è la base fondamentale. A quel momento lì inizia il percorso di costruzione della relazione. Se noi usiamo male il frustino, usiamo male le imboccature o comunque le briglie, gli aiuti di gambe o gli aiuti di mani, poi dopo... Ma il cavallo ha una capacità di sopportazione enorme? Sì, ma non dobbiamo sfruttarla troppo. Non dobbiamo essere troppo, far leva su questa sua capacità di sopportare situazioni che creano disagio. Perché prima si può arrivare all'estrema conseguenza proprio di avere poi la reazione tutta in una volta e allora lì sono problemi. Oppure si può avere, come abbiamo accennato in precedenza, delle situazioni di chiusura mentale, di chiusura appunto dall'ambiente e alle persone per cui poi... Il cavallo sta con noi ma è come se non ci fosse. Esatto. Viene con la lunghina, fa con noi qualsiasi cosa, però è come se vivessero in un'altra parte. Sì, esatto. Apprende una particolare situazione che ha un deficit psicologico piuttosto importante anche nelle persone che si chiama impotenza appresa. Cioè è inutile che io faccia quello, provi a sforzarmi per cambiare la situazione perché tanto non cambierà mai niente. Per cui le pressioni che mi vengono somministrate sono sbagliate, non trovo il modo per togliermele. Nessuno mi fa capire come comportarsi in certe situazioni perché il processo di addestramento è fatto in maniera sbagliata. Per cui mi chiudo nella mia bolla, diciamo, che metto di stacco fra me e tutto ciò che mi sta intorno. Possiamo dare due o tre consigli pratici da mettere, qualche esercizio da fare per noi, no? Nel momento in cui ci avviciniamo al cavallo. Sì, innanzitutto abituarsi a guardare il cavallo, a studiare il suo comportamento perché ci fornisce tantissime informazioni sul suo stato d'animo, sul suo stato emotivo, su come ci percepisce, su come, che tipo di relazione ha con noi, se pensa di più alla carota che abbiamo in tasca o se cerca invece proprio il nostro contatto fisico. Questa è la cosa fondamentale. E poi bisogna studiare le regole psicologiche dell'apprendimento per imparare la gestione dell'addestramento, del lavoro in sella o della conduzione a cabeza. Perché un cavallo non ci viene dietro perché si tira la longhina. Noi questo lo dobbiamo sapere bene, insomma. Altrimenti non possiamo costruire niente. Vabbè, molto complicato è poi riuscire a infondere certi principi, ma nella relazione quindi il cavallo mette in funzione tutti quelli che sono i suoi sensi e questa sua mente. Certo. La percezione di tutto quello che abbiamo definito con la percezione sensoriale sono tutte informazioni che lui immagazzina nella sua mente, mette in memoria e poi rielabora quando appunto la situazione si ricrea. Se una persona appunto gli fa qualcosa di sbagliato o viceversa gli fa qualcosa di piacevole, tipo simulare il mutual grooming, lui si ricorderà di quella persona, si ricorderà del suo volto, della sua espressione, del suo odore, di tutta una serie di cose che mette in memoria e poi quando rivede quella persona chiaramente collega con la situazione piacevole o spiacevole che ha vissuto in precedenza. Allora, nel percorso di relazione tra uomo e cavallo abbiamo detto che è importante conoscere quali sono i principi dell'addestramento perché c'è la doma, c'è l'addestramento, questo rendere destro il cavallo, capace comunque poi di usare la destra e la sinistra bene o male, capace di adeguarsi a fare tutta una serie di cose. Il cavallo per anni è stato uno strumento di lavoro, è stato il trattore, è stato il camion, è stato la macchina sportiva, è stato l'autobus, è stato tutto. Adesso però è solo un cavallo sportivo, ormai non lo usiamo più per i lavori perché ci sono davvero i motori, i cavalli motori. Quindi il cavallo sportivo fa solo il cavallo sportivo e ama essere montato questo cavallo sportivo. Questa è la domanda da cento milioni. Non sappiamo se lui ami essere montato. Quello che sappiamo è che se viene montato nella maniera corretta, seguendo la sua psicologia, non sarà per lui un grosso problema affrontare quello che gli viene chiesto. Non so se il concetto non è tanto semplice da enunciare, però è logico che è vero che la natura non ha previsto che l'uomo salisse sopra il cavallo, non ha nemmeno previsto che il cane dorma sul tappetino di casa. Però se certe situazioni sono vissute in una certa maniera e si rispetta la psicologia e la necessità dell'altro, è chiaro che si accettano anche situazioni che non rientrano proprio nell'ambito strettamente naturale. Per cui il montarci sopra, il salirci sopra e farci esercizi, farci attività sportiva va bene. Probabilmente il cavallo lo vive bene nel momento in cui le persone fanno le azioni in maniera corretta. Allora, mentre Elfo controlla se siamo abbastanza interessanti, sta dando morsetti alle sedie, per vedere se sono buone a noi, ci sta lecazzando, annusando, vuole vedere un po' se c'è qualcosa di interessante qui con cui giocare. Per dare un'idea precisa e scientifica su quelle che possono essere azioni banali per noi, ma che per il cavallo banali non sono, c'è uno studio importante sulla capezza, che è uno strumento banalissimo, che è la prima cosa che si mette a un poledro e i poledri vanno incavezzati. Si dice perché da essere liberi a girare insieme alla mamma e quindi essere gestiti con la mamma, poi vanno incavezzati e li va insegnati ad andare a capezza. Dunque voi come università avete fatto proprio uno studio scientifico sul fastidio o meno che può dare questo semplice gesto? Sulla reazione emotiva che si instaura, perché abbiamo studiato di gruppi di cavalli che vivendo in ambienti diversi, con esperienze diverse, hanno sviluppato una reattività emotiva diversa nei confronti della persona. Nel momento in cui si va a mettere la cavezza si notano delle alterazioni di tipo fisiologico, cioè relative all'attività cardiaca, per cui è una sorta di emozione interna, che non è visibile dal punto di vista comportamentale, ma che ti dice che il cavallo percepisce il posizionamento della cavezza come il momento di stacco fra, tra virgolette, l'essere libero e il dover fare qualcosa con la persona. Se questo viene fatto seguendo un addestramento che segue la teoria dell'apprendimento, ciò non avviene. La teoria dell'apprendimento sono quella serie di regole, quella sequenza di regole, che ci dicono come gli animali apprendono in determinate situazioni. Seguendo queste regole durante l'addestramento del cavallo, questa componente emotiva nel momento in cui si mette la cavezza non c'è, non è presente. Segno evidente che dipende molto da come l'addestramento viene fatto. Se si seguono le regole scientifiche, ok, il cavallo non ha questo tipo di reazione, altrimenti si instaura questa sorta di oddio ora che succede. E quali sono allora le regole scientifiche da seguire? Allora, partiamo da un assunto molto importante. Come si diceva prima, il cavallo non ci segue perché si tira la longhina della cavezza, ok? Il cavallo non gira a destra perché si tira la redine destra, ma ci segue nel momento in cui si allenta la tensione della longhina. Quello è il momento in cui si apprende, il cavallo apprende che quel certo gesto, quel certo stimolo, il sentire la tensione della longhina vuol dire fai un passo avanti. Se io nel momento in cui il cavallo fa il passo avanti, continuo con questa stimolazione, continuo a tirare, è un po' come se gli dicessi guarda, quello che stai facendo non va bene. Ma lui ha fatto il passo avanti, ha fatto quello che io volevo, ma gli sto mandando un segnale contraddittorio. Ecco, questo è un piccolo esempio di come si può creare un deficit di comunicazione con il cavallo. Gli mando un segnale, lui lo percepisce, impara che quel segnale vuol dire una certa cosa, ma io dopo non lo uso più nella maniera appropriata. Quindi è tutto un gioco di pressioni? Sì, nel momento in cui si deve salire sul cavallo, facci attività sportiva, facci qualsiasi cosa ci facciamo, gioca molto la nostra modalità di comunicazione con il cavallo. Gioca in gran parte sull'uso delle pressioni. Se ci pensiamo bene... Noi facciamo una pressione continua mentre siamo sopra, no? Esatto, lo stare in sella, lo stare sulla groppa del cavallo vuol dire esercitare una pressione sul suo dorso. E questa pressione può essere... ci si può abituare oppure può diventare un modo per comunicare determinate cose, per dirgli fai questo piuttosto che quest'altro. Fai il galoppo destro, cambia il volo il galoppo, eh, quindi... Esatto, da questo gioco di pressioni applicate e rimosse nel momento giusto in cui il cavallo effettua quel preciso comportamento, lui capisce che quel segnale vuol dire fai questa determinata cosa e la fa molto serenamente, molto tranquillamente, senza bisogno di coinvolgimenti, di coercizioni, di inventarsi aggettivi e stamattina ce l'ha con me, non ha fiducia in me, eccetera. Se noi siamo chiari con questa modalità di comunicazione, il cavallo farà, diciamo, quello che gli viene richiesto nella maniera migliore e sarà rispettato soprattutto il suo benessere psichico, perché tutti i problemi per lui derivano dal fatto che le pressioni spesso vengono rimosse al momento sbagliato, per cui si mandano dei segnali contraddittori che lui non conosce. E quando una persona ti manda dei segnali contraddittori, ti vai in confusione. È molto semplice. Dallo studio, come mettere la capezza, abbiamo già capito molte cose e sono fondamentali perché vogliamo stimolare lo studio, le persone, l'attenzione o perlomeno farsi delle domande. Certo, sono fondamentali per un semplice motivo perché appunto la relazione con il cavallo parte dalle cose più semplici, dall'uso delle pressioni, dalla posizione della cavezza, dalla posizione delle redini e quant'altro. È da lì poi che si costruisce la vera e propria relazione, cioè proprio il legame fra due esseri e eventi diversi, per cui appunto una situazione di questo tipo, una relazione, proprio una ricerca, il contatto fisico con una persona. Però se noi non diamo buongiorno, non sorridiamo al cavallo, rimuovendo al momento giusto le pressioni, utilizzando gli aiuti di mano e di gamba correttamente, è chiaro che non si può andare oltre.